Buonasera a tutti Sono Lederio KCX E questa sera vi volevo fare vedere Le novità del mio canale L'altro giorno ho messo un video Novità sul mio canale Queste sono le novità Tantissimi video su giochi Giochi che potete anche decidere voi L'importanza che siano su Playstation 3 Ma preferisco di più fare giochi su Minecraft Perché mi appassiona questo gioco E mi piace Scusate il mio modo di parlare Ma ho messo da poco l'apparecchio E non è Un crank è come Accessorio in bocca Chiamamolo così Accessorio Oggi ho generato un nuovo mondo Non è quel mondo che ho fatto con la Ho registrato con la fotocamera Ma è un nuovo mondo Che l'ho chiamato YouTube L'ho chiamato così Perché lo voglio portare sul mio canale E perché vorrei anche Di vostri consigli Su quello che devo costruire Su dove fare la casa Su cosa fare Per esempio Andare a visitare tutto il mondo Scoprire tutto il mondo Non so Decidete voi Qui ci sono delle belle montagne Convincente Soddisfacente Scherzo E se volete Nei prossimi video Mi parlerò un po' di me Raggiungiamo tantissimi like Io mi contento anche Di 20 Per adesso 20 like Iscrivetevi Tanto Questa niente Nel lasciare like E ne iscriviti Condividete Eccetera Fate quello che volete E Niente Che vi posso dire E Vorrei avere tanti consigli Perché ci sono tante cose Che Io non conosco Di Di minecraft Però Mi piace Perché Non so E' misterioso Io seguo molto Il canale Di Steppini Su Real Power Vegas Anche Anima Fabi J Ora Non mi uccidete Che ho detto Fabi J Ok Dopo i video Che ho seguito Quelli di Steppini Anima Eccetera No che mi è appassionato Allora Ma Mi sono appassionato Comunque Questa sono io Le Deroxix E con la carotina in mano Vi saluto Lasciate i denti like E condividete Ciao Oh 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 Wow, wow.